10 e 45 minuti in questa giornata del 29 luglio eccoci insieme carissimi telespettatori ieri era una data particolare e infatti avevamo la nostra inviata maria antonia di maggio in un luogo della città di san giovanni rotondo che è intitolato proprio alla data in cui padre pio arrivò qui nel 1916 52 anni filati ha passato il nostro san pio nella città diventata celebre in tutto il mondo proprio per la sua presenza e così oggi avremo modo anche di riepilogarvi gli eventi che anche le istituzioni cittadine hanno voluto ripetere come ogni anno proprio per celebrare il 28 luglio ma oggi 29 la nostra inviata sempre maria antonia di maggio è in un altro luogo e ci colleghiamo subito con lei in un'inquadratura molto bella c'è proprio tutta una serie di sfumature di colori del deserto cara maria antonia compreso il tuo abbigliamento complimenti grazie maria epia per questa nota estetica come ricordavi tu ringraziamo anche il nostro operatore matteo fiore per l'inquadratura come ricordavi tu ieri eravamo il largo 28 luglio per celebrare la giornata del ringraziamento ovvero la giornata che ricorda l'arrivo di padre pio qui a san giovanni rotondo oggi siamo in un altro luogo che ci parla sempre di padre pio ovvero ai piedi della via crucis monumentale opera dell'artista francesco messina e tra poco a raccontarcela ovviamente la nostra guida d'eccezione ovvero carlos sciarra dell'ufficio pellegrinaggi che ci farà scoprire questa importante opera costruita proprio tra il santuario di santa maria delle grazie e l'ospedale casa sollievo della sofferenza davvero un'opera straordinaria che ci parla ancora e ci racconta comunque della vita e della spiritualità di padre pio quindi ci rivedremo fra poco per il racconto completo di questo luogo grazie grazie maria antonia e naturalmente attraverso di lei potremo anche scoprire se qualcuno nonostante le temperature appunto piuttosto africane in queste ore sta anche percorrendo la via crucis che ha una parte al fresco come tante volte avete potuto vedere anche con le vie crucis che vi abbiamo trasmesso di venerdì ma una parte anche quella scalinata che poi scende appunto lì fa arrivare i pellegrini davanti al santuario santa maria delle grazie ma noi prima di continuare a parlare di padre pio e della sua presenza san giovanni rotondo vogliamo anche darvi subito conto del santo del giorno un appuntamento imprescindibile i santi come vedete anche da questa scheda sono marta maria e lazzaro i santi appunto di betania gli amici del signore passando per questo villaggio gesù incontra due donne le sorelle del suo amico lazzaro e questo è il racconto del vangelo di luca al capitolo 10 i versetti sono 5 dal 38esimo al 42esimo e vedete contemplazione e azioni sono indispensabili abbiamo scelto questa frase come riassuntiva ciascuno di noi deve essere insieme marta e maria considerate che tra l'altro ci sono molte letture che si possono dare di questo racconto anche dal punto di vista di quanto gesù ha rivoluzionato con i suoi segni con le sue modalità di approcciarsi alle donne proprio la storia la vita di quel piccolo gregge che era appunto il popolo ebraico maria siede ai piedi del maestro ma era stata marta che aveva invitato gesù a entrare in casa l'ascolto era prerogativa riservata agli uomini alle donne competeva occuparsi dei servizi cioè delle faccende da sbrigare in casa ma c'è un'altra osservazione che vorrei farvi cioè non era possibile per la mentalità dell'epoca che una donna potesse ascoltare qualcosa che fosse simile all'istruzione perché non era in grado di comprendere di capire infatti molte volte anche in altre trasmissioni vi ho citato questa grande comunque conquista che era un unicum nel mondo antico del popolo ebraico cioè gli uomini tutti dovevano avere un'istruzione per poter saper leggere appunto la parola di dio però solo gli uomini quindi già era un passo avanti ma non del tutto invece gesù con questo celeberrimo passaggio in cui valorizza ciò che fa maria compie appunto qualcosa di eccezionalmente importante e lasciamo ora il nostro santo del giorno perché come ci eravamo ripromessi vogliamo ritornare al pomeriggio di ieri dopo che ieri mattina già maria antonia col suo collegamento e anche naturalmente con la scheda che avevamo ascoltato di riepilogo del perché padre pio è venuto qui a san in rotondo a partire appunto da quel 28 luglio 1916 ieri pomeriggio nella celebrazione eucaristica il padre guardiano il nostro caro amico e vostro amico fra carlo laborde qui intanto vediamo immagini che riepilogano a loro volta un omaggio floreale che al termine della celebrazione è stato portato vedete con la fascia di vice sindaco o maria pia patrizio che avevamo avuto ospite anche ieri mattina eccoli in un momento naturalmente particolarmente intenso ma anche semplice vicino alle spoglie mortali di padre pio ma come vi dicevo vogliamo subito anche ascoltare uno stralcio dell'omelia di fra carlo laborde alla celebrazione delle ore 18 in riferimento è tutto a questa giornata del 28 luglio ecco noi abbiamo la grazia fratelli sorelle carissimi di avere a san giovanni rotondo questa perla preziosa questo tesoro inestimabile che padre pio è un dono potremmo domandarci come mai padre pio il signore ha voluto fare a questa cittadina a questo luogo questo dono l'avrebbe potuto fare chissà qual'altra qual'altro luogo a quale altra città perché ha scelto questo luogo e certamente a quel tempo non era un luogo importante sconosciuto lontano dalle vie principali vie di comunicazione un paesino isolato di pastori di agricoltori di contadini come mai ma nel disegno di dio nella provvidenza di dio dio ha voluto così ma dobbiamo ricordare che ogni dono di dio comporta una responsabilità il signore ha detto a chi molto è stato dato molto sarà chiesto indietro certo il signore ci ha fatto un dono immenso a noi tutti a noi confratelli che siamo qui che viviamo qui alla città di san giovanni rotondo alla chiesa tutta ovviamente ecco ma ogni dono di dio comporta una responsabilità qual è la nostra risposta al dono che il signore ha fatto a noi nella persona di padre pio qual è ecco la nostra risposta all'insegnamento di padre pio alla testimonianza di santità di padre pio ne siamo degni ci sforziamo ecco di mettere in pratica i suoi insegnamenti oppure magari ci siamo dimenticati in tanti in tanto in tanti casi ecco di questa santità di padre pio che non sia solo un motivo di vanto ecco ma sia soprattutto la coscienza di un dono ricevuto che comporta anche una responsabilità molto grande dobbiamo essere degni o sforzarci di esserlo di un dono così grande perché il signore un giorno ci chiederà conto ecco che possiamo davvero seguire gli insegnamenti di padre pio che si è immolato su questo monte che ha offerto la sua vita per la salvezza delle anime che si è prodigato durante 52 anni per il bene spirituale e materiale di questa popolazione e che la sua memoria la sua santità la sua eredità rimane viva in questo popolo e dobbiamo dunque seguire i suoi insegnamenti e sforzarci di continuare a testimoniare quella presenza di padre pio che ha lasciato ecco un segno profondo in questo luogo e che continua attraverso ecco la nostra testimonianza sono stati certamente tanti gli amministratori locali che hanno avuto la grazia la gioia di vivere a san giovanni rotondo a fianco a fianco potremmo dire con san pio ci sarà sicuramente modo e già c'è stato in diverse occasioni di ritornare anche su questi aspetti che possono dirci tantissimo non solo naturalmente per il nostro interesse alla biografia del santo ma anche proprio come paradigma di determinate realtà non dimentichiamo che uno degli aspetti veramente affascinanti e senza tempo della santità di padre pio è che attraverso tre secoli della sua avventura umana appunto c'è sicuramente tantissimo tre secoli finora perché noi viviamo nel ventunesimo poi dobbiamo tornare indietro se vogliamo tracciare appunto la sua biografia al diciannovesimo e poi ovviamente l'importanza di tutto quello che è accaduto nel ventesimo secolo ma tutto questo è inutile ora a sottolinearlo era solo un passaggio per arrivare appunto proprio come hanno fatto ieri in tanti dal santuario santa maria delle grazie al cuore del paese al cuore della città a san giovanni rotondo dove sono giunte le persone e anche naturalmente erano presenti le autorità quindi direi di vedere le immagini e del largo 28 luglio dove ci sono stati dei momenti anche formali ma soprattutto atmosfera di grande affetto di grande voglia di memoria e prima di ascoltare anche fra francesco di leo che come sapete il rettore di tutte le chiese che hanno reso sempre più forte la storia il messaggio di padre pio ascoltiamo proprio maria pia patrizio in rappresentanza dell'amministrazione comunale a distanza di esattamente 105 anni da quel 28 luglio del 1916 giorno in cui padre pio mise piede per la prima volta in questo territorio ci troviamo qui con il cuore pieno di riconoscenza di gratitudine ma anche talvolta ferito angosciato smarrito tutti bisognosi di affidarci alle cure paterne e alla bontà di padre pio dunque mi piace pensare che il miracolo della venuta di padre pio continua continua ed è presente sempre nei nostri buoni perché questo spese questo periodo di difficoltà ci ha dimostrato come la presenza e l'intercessione del santo è viva ed efficace e concreta per tutta la nostra comunità scusate qualche momento andiamo subito a riscoprire invece come vi dicevo grazie alla regia grazie al lavoro di roberto cocomazzi anche quello che è stato pronunciato nel discorso ottenuto da fra francesco di leo io credo che siano due gli atteggiamenti che debbano scaturire da questa circostanza innanzitutto quello che è stato sottolineato più volte non solo quest'anno ma anche negli anni passati questo atteggiamento di gratitudine di memoria grata di ricordo grato per questo dono immenso che il signore ha fatto a questa terra mi piace immaginare che padre pio sin da subito abbia considerato questo territorio questa terra una terra sacra perché visitata dalla presenza di pio in modo speciale e poi credo che un altro atteggiamento sia importante e forse quello più significativo che deve portare in qualche modo dei frutti concreti nella nostra comunità è proprio questa maggiore consapevolezza che ognuno di noi deve avere di fare la propria parte ognuno di noi deve dare il proprio contributo perché questa terra è quello che ha fatto padre pio non si perde nel tempo ma possa fruttificare sempre di più e come padre pio diceva di voler essere un figlio meno indegno di San Francesco quindi voleva essere un vero francescano, un vero figlio di San Francesco così io vorrei che ciascuno di noi sentisse proprio questa esigenza, questa necessità, questo bisogno di essere sempre di più un devoto, vero figlio di padre pio un vero fedele di padre pio e questo lo possiamo fare solo dimostrando di tenerci anche noi come lui ci ha tenuto a questa terra e a questi luoghi e certamente sono parole sempre importanti che ci scendono nell'animo e che sono state anche suggellate dalla musica perché a volte proprio a sottolineare l'importanza delle parole può arrivare un intermezzo musicale in questo caso una conclusione molto interessante perché l'orchestra da camera dell'Accademia Musicale Federiciana ha chiuso il momento appunto in cui la cittadinanza ha ringraziato ancora una volta il Signore per tutto quello che ha ricevuto di grazie e quello che anche riceverà e che possiamo solo intuire da parte di questo grande santo che è un santo, ricordiamolo, che nella denominazione ha appunto Pietrelcina che è la città in cui è nato e che ci porta in un'altra bellissima terra che è la Campania ma dall'altra parte naturalmente ha reso appunto questa città garganica davvero immortale noi abbiamo solo lo spazio per passare la linea alla regia uno spazio molto breve perché poi aspettiamo il racconto da parte del nostro esperto da parte del nostro Virgilio Carlos insieme con Maria Antonia di qualche cosa di speciale che non sapevamo a proposito della Via Crucis quindi restate con noi 11 e 4 minuti eccoci come promesso a lasciare la linea la nostra Maria Antonia di Maggio eccoci qui Maria Pia mascherine e occhiali da sole diciamo che non è un'immagine che amo molto perché ci copre davvero in maniera eccessiva però oggi abbiamo il sole puntato in faccia quindi insomma è necessario detto questo giusto per raccontarvi e portarvi anche un po' di colore prima che il nostro Carlos che saluto e al quale do il benvenuto inizi la sua spiegazione voglio dirvi che proprio in questo momento c'è una bellissima sposa che sta entrando in chiesa questo ecco per raccontarvi e partecipare anche a questo bel momento allora tornando a noi tornando a questo luogo a questo luogo speciale di cui abbiamo già parlato all'inizio del nostro collegamento ovvero la via Crucis monumentale ovviamente non potevamo non chiedere a Carlos di venire qui a spiegarci questa opera d'arte a raccontarci qualcosa di più di questo luogo grazie Carlos per aver accettato ancora una volta di accompagnarci in questo viaggio grazie, grazie e ben trovati a tutti allora sì, ci troviamo sicuramente in una delle opere più significative che troviamo a San Giovanni Rotondo onestamente per quello che riguarda me per quelle che sono le mie inclinazioni credo che sia l'opera magistrale in assoluto delle tante opere che abbiamo qui a San Giovanni Rotondo l'opera del maestro Francesco Messina un'opera straordinaria, grandiosa e che poche volte mi era messo in risalto anche nei libri di storia sicuramente merita un posto particolare nella memoria e anche nella valorizzazione che noi dobbiamo dare a questi luoghi tutti sono particolarmente legati a questo luogo anche perché questa via Crucis è vero che Padre Pio non l'ha vista realizzata così come la vediamo noi anche perché la realizzazione diciamo almeno nella prima parte siamo intorno agli anni 70, nel 71 veramente dopo tre anni della morte di Padre Pio il 25 maggio del 71 come inaugurazione anche se non era ancora completata e non era nella situazione così come la vediamo adesso ma perché nasce l'esigenza di questa via Crucis? perché San Giovanni aveva già una bella via Crucis l'abbiamo ancora su Viale Cappuccini però se quando è stata posizionata lì negli anni 50 era facile percorrere Viale Cappuccini quindi per fare la via Crucis poi con l'arrivo degli anni 60 l'aumento degli automobili pullman di linea che iniziavano a salire al santuario soprattutto con la nascita dell'ospedale beh quella via Crucis diventava scomoda quindi da più parti i pellegrini chiedevano una ricollocazione di quella via Crucis posso comunque di trovare un modo per poter far vivere questo più esercizio ai tanti pellegrini del resto la via Crucis nei grandi santuari è sempre uno dei momenti clou dei momenti proprio insieme alla celebrazione dell'Eucaristia proprio ci dà l'idea della penitenza di questa ricerca, di questa riflessione dolorosa e allora nasce l'idea della realizzazione di questa via Crucis ne parlano a Padre Pio e siamo proprio nel ridosso della morte di Padre Pio siamo nel 67 quindi è Padre Michele che racconta questa storia Padre Michele Placentino ecco se ieri con Padre Marcellino è morto uno l'ultimo testimone proprio del processo che ha portato poi alla canonizzazione di Padre Pio quindi l'ultimo dei grandi che sono stati accanto a Padre Pio sicuramente tra questi grandi non possiamo non ricordare Padre Michele è stato l'economo storico di questo santuario è lui che ha portato un po' a compimento quindi che ha seguito quelle che sono le indicazioni che Padre Pio dava anche ai suoi confratelli Padre Michele racconta che quando paventarono a Padre Pio l'idea della realizzazione di questa via Crucis su questa montagna che prima si chiamava il Parco del Buon Pastore Padre Pio esclamò questa cosa disse a Padre Michele abbiamo fatto tante opere belle ma sicuramente questa via Crucis è una delle più belle e allora i frati subito si misero all'opera valutarono vari artisti e finché la scelta non cadde su Francesco Messina e anche qui una storia straordinaria Francesco Messina al primo un po' come aveva fatto Renzo Piano al primo appuntamento rifiuta non aveva ben capito che era Padre Pio che in un certo qual senso commissionava quest'opera però lui ormai non si sentiva più in grado di affrontare una lavorazione del genere Francesco Messina non era nuovo alla realizzazione di via Crucis o comunque ad opere sacre però l'idea non l'aveva stuzzicato particolarmente per cui rifiutò i frati naturalmente con la loro caparvietà come spesso sanno fare tornarono più volte diremmo all'attacco finché gli dissero guarda che è Padre Pio che ti chiama per quest'opera quando ha saputo che era Padre Pio che lo chiamava Francesco Messina che rifiutava anche perché ormai aveva le mani indolenzite quindi lui era uno scultore quindi non si sentiva fisicamente pronto in quel momento accettò, accettò di slancio di realizzare questa via Crucis e venne a San Giovanni Rotondo all'inizio quello che lui aveva capito che doveva realizzare delle opere da mettere in chiesa quindi dice vengo per analizzare vedere la grandezza di Santa Maria delle Grazie del santuario vedere dove poter collocare questa via Crucis quando capì che invece i frati dice no ma non c'entra con la chiesa noi vogliamo realizzare la via Crucis su questo parco del buon pastore l'entusiasmo futale nella figlia stessa che lo racconta in alcuni degli scritti che noi conserviamo che si trovano anche nelle nostre librerie fu preso dall'entusiasmo iniziò a lavorare in maniera alacre a tutto il progetto e se è vero che Padre Pio non ha mai visto quest'opera realizzata è vero che quella mattina del 22 settembre del 1968 noi ricordiamo due episodi particolari Padre Pio che partecipa alla benedizione della cripta dove poi sarà sepolto da lì a qualche giorno e Padre Pio che benedice proprio la prima pietra di questa via Crucis che è posta sotto questa statua di Padre Pio che noi adesso vediamo naturalmente è un'opera straordinaria l'artista si mette subito al lavoro quindi con vari ingegneri e architetti la realizzazione di quest'opera naturalmente non un'opera che ha avuto vita facile se è stato facile per Messina immaginare subito la realizzazione delle stazioni sulla collocazione iniziava ad avere qualche problema prima della realizzazione di questa via Crucis lui realizza per proprio conto per un'opera sua particolare la grande Madonna con il bambino che noi vediamo nel secondo livello di questa via Crucis dove proprio si parte con la via Crucis questa Madonna con il bambino scolpita in marmo di Carrara lui la realizza come omaggio a sua madre omaggio a sua madre e a Maria come madre di tutti di tutta l'umanità quindi aveva già realizzato questa Madonna con il bambino e quando si trovò di fronte al progetto di questa via Crucis ha ben pensato di posizionare la statua della Madonna in alto dove noi adesso vediamo quella statua del Cristo risorto però come lui spesso ha tenuto a sottolineare in più di qualche intervista dice l'opera non è mai veramente compiuta di un artista finché non la collochi quindi non è mai veramente finita quindi si rende conto che quella Madonna collocata lì in alto in effetti spariva quasi dalla prospettiva rimaneva isolata sembrava quasi un cerino quindi decide di spostare la Madonna prima in questa parte in basso prima della realizzazione della statua di Padre Pio e che cosa doveva realizzare in alto? dove noi adesso vediamo quel grande Cristo risorto lui aveva l'idea di realizzare una grande croce gloriosa una grande croce scusate una grande croce luminosa alta addirittura 20 metri la sua idea è che quella croce si dovesse vedere da tutto il Gargano come punto di riferimento ma quando poi proprio nel 25 maggio del 1971 si venne alla benedizione di questa via Crucis all'apertura della via Crucis come dicevo in alcune parti non era ancora completata viene una riflessione da parte del Cardinale Orsi che venne il Cardinale di Napoli che venne a benedire quest'opera disse ma perché questa croce non realizziamo la risurrezione lui stesso profetizzò non vedo l'ora che la risurrezione venga inclusa con le 14 come conclusione proprio della via Crucis e quindi Messina prende la palla al balzo e dopo alcuni bozzetti realizza quel grande Cristo crocifisso che noi vediamo in alto e quindi c'è questa prospettiva bellissima per chi guarda la via Crucis per la prima volta c'è Padre Pio che ti accoglie che ti affida a Maria e con Maria facciamo il cammino della croce che ci porta fino all'incontro con Cristo alla risurrezione di Cristo perché la via della croce è vero ha sempre questa accezione negativa quasi si conclude con la morte invece è quella morte necessaria che ci conduce alla vita nuova quindi non può finire con Gesù che è sepolto che è deposto nel sepolcro ma quel sepolcro deve essere vuoto perché Cristo è risorto quindi questa via della croce si conclude naturalmente con quel grande Cristo risorto e poi l'intuizione più grande di tutti che ha fatto forse la fortuna di questa via Crucis è la stazione del Cireneo nella stazione del Cireneo il Cireneo viene sostituito proprio la figura di questo Cireneo che viene obbligato a portare la croce di Gesù viene sostituito dalla figura di Padre Pio è Padre Pio che si offre volontario per sostenere il peso di Cristo sulla croce quindi Cristo cade Padre Pio sostiene la sua croce ed è un po' un'immagine che ci riporta anche alla Chiesa Nuova nei mosaici che noi vediamo della Chiesa Nuova naturalmente viene ripercorsa questa idea di quando Padre Pio abbraccia Gesù che è crocifisso sulla croce e al messaggio che Padre Pio lascia tante volte ai suoi figli spirituali tutti venite qui a chiedermi di togliervi la croce il peso della croce ma mai nessuno che dice Padre aiutami a portare il peso della croce e del resto Padre Pio questo ha fatto nella sua vita si è sforzato di portare di aiutare Gesù a condividere proprio il peso della croce e quindi è da lì l'intuizione anche del libro della biografia per eccellenza di Padre Pio il Cireneo di tutti che è forse il nome con cui Padre Pio ormai è più conosciuto proprio una delle definizioni più belle che viene data da Padre Pio identifica meglio forse la sua meglio in maniera sicuramente più completa la sua spiritualità abbiamo ancora un paio di minuti velocemente volevo chiederti ai piedi di questa statua di Padre Pio la regia sicuramente ci sta aiutando con le immagini c'è anche una poesia incisa nella pietra poesia che ha donato il poeta San Giovannese Giovanni Scarale sì è uno dei ritratti più belli che si fa di Padre Pio del resto non poteva non farlo chi Padre Pio lo ha conosciuto quindi anche con Giovanni Scarale noi parliamo sicuramente di un artista delle qualità riconosciute e riconoscibili quindi non di uno che si improvvisa scrittore ma sicuramente di uno scrittore di un certo livello che conclude questa che realizza questa poesia di Padre Pio proprio questo invito a tutti i pellegrini che arrivano quest'idea di questo pellegrinaggio che non finire mai ripeteranno agli altri gli altri ripeteranno agli altri quindi c'è quest'idea molto bella di questo monte come lui stesso dice la poesia che viene glorificato proprio dalla presenza di Padre Pio sicuramente è uno dei versi più belli una delle poesie più belle che Giovanni Scarale ha lasciato e naturalmente non poteva essere la scritta di getto proprio in commozione quando ha saputo della morte di Padre Pio Sicuramente ci sarebbero tantissime altre cose ancora da raccontare sulla via Crucis monumentale non è detto che non sarà affatto nei prossimi collegamenti però per il momento per questa giornata per questo collegamento noi ringraziamo davvero di cuore Carlos per averci fatto da maestro e restituiamo la linea a te Maria Pia Grazie, grazie davvero abbiamo visto più volte anche quel cartiglio meraviglioso con le parole incise la poesia a volte è una parola al quadrato appunto e noi ve l'abbiamo lasciata anche in parte godere un grazie speciale ovviamente a Carlos ma adesso dobbiamo parlare di impatto molto diverso sul pianeta noi quando parliamo dei luoghi di San Pio abbiamo potuto tante volte sottolineare come appunto la pietra sia accompagnata e non violentata dal lavoro dell'uomo qui a San Giovanni Rotondo però oggi invece è anche una giornata in cui scopriamo con il cosiddetto Earth Overshoot Day che gli uomini hanno consumato troppe troppe risorse del pianeta pensate che in questa giornata il senso lo sentiamo adesso in un servizio comunque nel 1970 era caduta il 29 dicembre cioè quasi tutto l'anno era stato sufficiente comunque per quel che riguarda le nostre risorse la terra avrebbe concluso l'anno senza troppa febbre ora le cose sono completamente cambiate e ci spiega Maria Antonia perché si chiama impronta ecologica ed è l'indicatore utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della terra di rigenerarle ci dice quante risorse del pianeta stiamo consumando se il nostro stile di vita è sostenibile se la natura riesce a generare nuove risorse ai nostri ritmi come si calcola ma soprattutto come si riduce? oltre la metà dell'impronta ecologica dell'umanità è costituita dalla quantità di CO2 che produciamo immettiamo in atmosfera molti più gas serra di quanti la terra attraverso foreste e oceani riesca ad assorbire e così secondo gli ultimi dati del WWF a livello globale l'umanità consuma le risorse di circa 1,7 terre l'overshoot day segna la data in cui la richiesta di risorse da parte dell'umanità in un determinato anno supera quella che la terra può rigenerare in quell'anno nel 2020 la scadenza calcolata dal Global Footprint Network è arrivata il 22 agosto un mese dopo rispetto all'anno precedente ma solo per via del lockdown globale imposto dalla pandemia più tardi raggiungiamo tale data nell'arco dell'anno meglio è dimezzando l'impronta di carbonio arriveremo a consumare le risorse di appena 1,1 terre e sposteremmo in là la data dell'overshoot day di 93 giorni la buona notizia è che ciascuno di noi ha il potere di fare qualcosa per conoscere e di conseguenza migliorare la propria impronta ecologica come? stando attenti a quello che mangiamo a come ci muoviamo a come ci vestiamo per esempio l'aereo è il mezzo di trasporto che inquina maggiormente quindi per i nostri viaggi dovremmo preferire il treno ed evitare magari viaggi lunghi riscoprendo le vacanze nel nostro paese o in paesi vicini in città potremmo limitare l'utilizzo della macchina scegliendo di muoverci in bici se possibile o con i mezzi pubblici potremmo ancora cambiare le nostre abitudini alimentari scegliendo solo frutta di stagione i prodotti stagionali infatti non vengono trasportati in aereo né coltivati in serre riscaldate con combustibili fossili anche il consumo di carne dovrebbe essere limitato a circa 300 grammi a settimana tutto questo ridurrebbe l'impatto ambientale che gli allevamenti intensivi di animali producono con l'emissione dei gas a effetto serra fare la spesa in maniera oculata eviterebbe sprechi alimentari dovremmo inoltre privilegiare prodotti bio le coltivazioni biologiche infatti non prevedono l'impiego di pesticidi e fertilizzanti chimici pertanto l'inquinamento delle acque del terreno sarebbe di gran lunga inferiore e i campi rimarrebbero a lungo fertile e idonei a ospitare una grande varietà di flora e fauna la produzione di beni ma anche l'erogazione di servizi richiede spesso grandi quantità di energia e materie prime orientare quindi i nostri consumi all'essenzialità e acquistare solo ciò che è necessario sarebbe un bel passo in avanti per ridurre il nostro debito con la terra grazie a tutti